Secondo giorno di preparazione dell'Albese, con Buso capitano, nuovo capitano della formazione bianco-azzurra. Sensazioni? Intanto la responsabilità di questa fascia, orgoglio, ma anche tanta responsabilità. Ovviamente l'Albese è una società storica, quindi è un orgoglio portarla, un orgoglio immenso. E quest'anno sarà ancora più dura, visto che ci sono 16 squadre, i giovani si sono ridotti, cioè i giovani sono aumentati, scusate, perché passano da 3 a 4. Quindi sarà un po' più difficile, però remeremo sempre con grinta e con cattiveria, sempre fino alla fine, come abbiamo fatto tutti gli anni, soprattutto l'anno scorso nei play-out, sempre fino alla fine. Era importante, dopo la salvezza dell'anno scorso, non smobilitare, partite comunque con un gruppo compatto, questo qui potrebbe essere già un buon punto di partenza e un'arma in più per un campionato che non sarà facile. Esatto. Abbiamo qualcuno che è rimasto, tanta gente nuova, noi che siamo un po' lo zoccolo duro, i vecchi compagni, dobbiamo fare integrare bene i compagni nuovi. Quindi sarà il nostro compito farli integrare al meglio.